Lei è un parlamentare esperto, ma proviene da un'esperienza manageriale. In qualche modo lei è utile in questo suo nuovo ruolo di vicepresidente? Certamente, il fatto di venire innanzitutto dalla cosiddetta società civile ci permette di portare, quando assumiamo in carichi parlamentari, innanzitutto in politica, ma adesso in carichi istituzionali, l'esperienza del mondo del lavoro, della società civile, dell'imprenditoria in un luogo come questo, che per sua natura deve essere al servizio del nostro Paese, ma al servizio del bene comune. Poi, se questa esperienza può anche dare un contributo, per esempio, a tutta l'area della comunicazione della Camera dei Deputati, ai grandi temi legati a come una grande istituzione come la Camera dei Deputati può sempre di più essere un luogo di conoscenza e di trasparenza per i cittadini, credo che a questo punto abbiamo fatto bingo, come si dice. Lei ha fatto un accenno a questo, alla delega da parte del Presidente della Camera, proprio sulla comunicazione della Camera dei Deputati, come vorrebbe trasformarla? Ma abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione sin da subito, è noto a tutti come purtroppo negli ultimi anni i nostri cittadini si stanno allontanando dalla politica, o meglio dalla politica partitica o dalla politica quella che viene ritenuta come una casta, eppure il Parlamento e le istituzioni non solo sono una cosa importante per gli italiani, ma sono la prima grande rappresentazione di un Paese e allora noi abbiamo il dovere, non solo la responsabilità di spiegare, di raccontare quello che accade in questa casa, quello che accade in questa grande istituzione e di raccontarlo non difendendoci, ma spiegando perché un'istituzione come la Camera dei Deputati è un'istituzione fondamentale per un Paese, per un Paese che ha a cuore la democrazia, ma che ha a cuore la democrazia perché crede che i protagonisti del proprio Paese siano i cittadini, tutti i cittadini, di tutte le classi sociali, ma anche di tutte le parti politiche. Ci spieghi com'è fino a questo momento il suo rapporto con l'Aula della Camera e quindi con il complesso di tutti i deputati, un problema sempre difficile per un Vice Presidente? All'inizio è un po' come essere a scuola, quando il primo giorno uno arriva e c'è la maestra e ha tanti alunni davanti che deve conoscere, a di là il paragone che spero non sia il riverente, anche lì capisci molto il ruolo di un'istituzione e lo capisci proprio assumendo la responsabilità di fare il Presidente di turno, sostituendo il Presidente Fini della Camera dei Deputati, perché in quel caso ognuno di noi viene da esperienze politiche diverse, i Vice Presidenti sono proprio i Vice Presidenti in quanto rappresentanti di una parte del Parlamento, due devono essere di maggioranza e due devono essere di opposizione, ma nel momento in cui tu governi l'Aula capisci che sei al servizio di tutti, che non sei sopra le parti in maniera formale, ma sei sopra le parti proprio per aiutare le parti in causa, proprio perché se questo compito non è presente qualcosa si inceppa nel meccanismo, ma quando si inceppa qualcosa in questo meccanismo non è come quando si rompe una macchina, è una cosa molto più grave, perché ne è in gioco il destino di un Paese e il bene di un popolo. Senta, gli ultimi giorni prima delle ferie natalizie sono stati dominati dalla polemica sulle possibili modifiche alla Costituzione, ma che fine ha fatto la convinzione che questa sarebbe stata una legislatura costituente? Ma io su questo ho un'opinione molto chiara, molto netta, questa doveva e deve essere, se proprio non vogliamo ancora di più allontanare i cittadini dalle proprie istituzioni, dalla propria classe politica, la legislatura del cambiamento, del cambiamento perché è sotto gli occhi di tutti la necessità di modificare le regole, ma di modificare e di cambiare anche di fare le grandi riforme sui grandi temi, penso dalla giustizia alla struttura di uno Stato, a un'economia che sia più efficiente, a evitare sprechi, a ridurre per esempio il numero dei parlamentari perché avevano senso 630 deputati subito dopo la seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica e oggi con la modifica del sistema di comunicazione, del sistema della rappresentanza, non ha più senso avere una così grande rappresentanza. Io credo che questa sfida noi la dobbiamo raccogliere, siamo obbligati a raccogliere, sono convinto che i cambiamenti importanti e le grandi riforme si fanno seguendo una strada che è quella del confronto, anche serio, anche duro con in questo caso l'opposizione che è rappresentata in Parlamento, altrettanto però questo confronto è il grande tema del dialogo e delle riforme possibili, non può essere ancora una volta un rimandare i cambiamenti, perché altrimenti ne pagheremo tutte le conseguenze. Alla maggioranza hai dato il compito di governare, di proporre, all'opposizione quello di controllare, di fare opposizione e di portare contributi. Mi auguro che al di là delle tempeste che come sempre avvengono in un mare, che la navigazione comunque vada avanti e vada avanti chiara perché la meta ce l'abbiamo tutti chiara e la meta è quella di cambiare per il bene del nostro Paese e per il bene delle istituzioni che rappresentiamo. L'opposizione lamenta l'uso ritenuto eccessivo dei decreti legge, il governo risponde lamentando i tempi troppo lunghi delle procedure parlamentari, qual è la soluzione? Anche qui la soluzione è avere il coraggio di cambiare, ci sono dei regolamenti parlamentari che sono obsoleti, nel senso che erano validi per 20 anni fa, 30 anni fa, oggi non sono più validi. C'è un'esigenza chiara che tutti i cittadini hanno, chi governa non solo deve prendersi e assumersi la responsabilità, ma deve prendere rapidamente delle decisioni. Pensiamo a un esempio che è sotto gli occhi di tutti, la crisi mondiale economica e finanziaria. Con le regole attuali, se non avessimo fatto dei decreti, rischiavamo che le decisioni prese da un governo avevano tempi lunghissimi per approvazione. Siamo in un sistema bicamerale perfetto, una legge deve essere approvata sia dalla Camera che dal Senato, deve ritornare alla Camera del Senato, l'opposizione deve fare giustamente il suo dovere e quindi si rischiava tempi addirittura di un anno, 12, 14, 16 mesi per l'approvazione di una legge che ha una procedura ordinaria. Allora la decretazione di urgenza e quindi il decreto legge è sempre stato usato da qualunque governo, oggi quello di centrodestra, sei mesi fa da quello di centrosinistra per accelerare i tempi. L'unica risposta che può venire da un abuso di questo strumento è quello di innovarsi, cambiare i regolamenti. Senta, le faccio un'altra e forse l'ultima domanda, visto che il tempo a nostra esposizione sta per terminale. Lei è uno dei protagonisti del dibattito politico sulla bioetica, ritiene che in questa legislatura, dopo tanti anni e tanti tentativi andati a vuoto, si riuscirà a mettere a punto una legge sul testamento biologico o se preferisce sul fine vita? Io preferisco parlare di legge di fine vita, anche per la cultura da cui provengo, che è profondamente cattolica. C'è stata una legislatura, quella del 2001-2006, che ha visto una legge importante essere approvata su questo tema con il concorso della maggioranza delle forze parlamentari, senza uno scontro tra laici e cattolici. Ed era la legge 40, la legge sulla procreazione assistita. Dopo gli eventi a cui abbiamo assistito, e cioè appunto la decisione di un tribunale di porre per decisioni di legge, di decidere della vita e della morte di una persona, credo, addirittura in questo caso per le mie convinzioni ovviamente, far morire una persona di fame e di sete, credo che il Parlamento abbia il dovere di legiferare in questa materia. E ha il dovere di legiferare innanzitutto andando al cuore del suo compito, del suo scopo. Una legge non può che essere al servizio della vita, al servizio della persona, anche delle persone che stanno finendo la loro vita. Quindi dobbiamo avere il coraggio di legiferare, tenendo presente dei paletti fondamentali che non possono essere traditi dal legislatore, a qualunque parte politica esso appartiene.